E' una cosa bellissima, tra l'altro c'è un panorama allucinante perché c'è la roccia e al lato si vede la luna, fa molto Star Wars. A 200 metri c'è la trade che va su, qua a testa, come fai circa altri 200 metri, c'è la trade che procede per la cattolica, e poi gira subito a sinistra e poi c'è la trade che ti porta sul canale del castello, di lì. Ragazzuoli! Francesco, ti devo presentare! Ciao! Vi presento mio amico Francesco, ma stiamo per andare a scalare e in questo momento non capisce più niente. Prima esperienza al Monte Consolino, non ci sono mai stato per arrampicare, sono venuto qualche volta a Bivongi per raccontare delle storie e sono venuto a Stilo per visitare la cattolica, come tutti, ma finalmente vengo qua anche per scalare. Chieni, ci hai trovato? Già ora, già iniziamo, già iniziamo! Accesso alle vie e ai settori. Senti, c'è una via che si chiama Iguercio, amico. C'è una via che si chiama Devo Finirla. Vuoi finire di arrampicare? Ah, eccola qua. Noi siamo nel settore pilastrino, che c'è Easyway, la 1, è un 5A, Splat, 5B, Iguercio, 5C, Mane di Fatta, 5C, Pipi Amaru, 6A, Via la Burecrazia, 6B, Manaia, 6A. Eh, direi che è fattibile, no? Ma queste ce le facciamo tutti. La mia ironia pura, di fatto non sono un bravo scalatore e i gradi di queste vie spingono le mie capacità al limite e anche forse un po' oltre. Nella scalata, beh, la sicurezza è una cosa importante, ma se non ci vai spesso, già solo ricordarti i nodi non è sempre la cosa più facile del mondo. Ma con un po' di calma, attenzione e soprattutto pazienza, tutto è superabile. Questa è una cosa sulla quale non puoi scherzare. Infatti Francesco è molto più bravo di me e dopo che lui la corda l'ha portata su alla catena con me che faccio sicurezza, ci posso provare anch'io da secondo con un rischio di farmi male molto più basso perché la corda è già attaccata. Non c'è come cadere. Premesso che l'attrezzatura di sicurezza venga utilizzata correttamente e il tuo assicuratore sta attento, non sta facendo altro. Vai, con calma, 6A2, non ti preoccupare, anche se accadendo non succede niente. No, alla fine ci non succede niente. Sereno. Francesco, allora i primi giri come sono andati? Sì, è una tragedia. Arrampicare dopo tanto tempo si sente la differenza. Io la prima via non l'ho chiusa perché ragazzi, troppo tempo senza le mani soffrono parecchio anche perché io normalmente ho in mano la fotocamera e non tocco sempre la roccia quindi ho già due buchi nelle mani e noi ci portiamo avanti. Noi siamo qua per divertirci, non per fare follie. Non competitivi. No, in effetti stiamo facendo tutto molto con sicurezza, stiamo facendo piano, non ci stiamo affrettando con niente però ce da dire stilo. Valutazione, prima impressione. Barco al gioco. mio secondo giro ho fatto il 6A che per me è tanto. Purtroppo non sono riuscito ad arrivare alla catena però ho ritirato i rinvii, sono felicissimo. Almeno quello, almeno non sono sceso del tutto. E poi se la videocamera in questo momento è un po' mossa, è ovvio perché le mie mani tremano. Francesco se la ride, è lì sotto che si sta cambiando. Cambiamo falesia. Cambiamo falesia che ci diamo l'illusione che poi sulle altre falesie va meglio. È la prima volta che ho pensato di fare un vlog mentre sto andando a scalare, però i dettagli non li ho mica pensati bene perché siccome siamo in due e uno deve fare sicurezza e l'altro sta scalando, come faccio a filmare? C'è una roba. Occhio! L'affio di tu, eh. C'è? Ci sono. Eh, è comodo. Che già filmare di per sé durante le escursioni non è sempre la cosa più semplice. Fantastichissimo volo. Però la fotocamera non si è fatta niente. No, non è la prima volta che volo durante un'escursione con la fotocamera in mano. Comunque la zona di rampicata del Monte Consulino è molto più bella di quanto me l'immaginavo. Sono 97 le vie chiodate e disposizione di chi è appassionato di questo sport. Ci è sembrato quasi strano che in una domenica così bella, calda e soleggiata di settembre fossimo così pochi a girare le vie. Quindi, ripartiamo da capo? Sì. Prossimo giro? Altro giro, altre corse. Questa però è più divertente, guardala. Sembra più bella, però comunque... Guarda che panorama. Comunque siamo parlando di nuovo di 6A. Sì. Io non so se già. Guarda che panorama. Spettacolo, eh. Quello è il mare se qualcuno non l'ha capito. Questo è Stilo con sotto lì c'è il monastero. Quello è Stilo? Sì, c'è la torre con attaccato la chiesa. A sinistra c'è il monastero che non si vede. No. E quello è tutto il letto del fiume, è gigante. Sì, è Spilaro. Spilaro, la fiumara di Spilaro è veramente enorme. Non ho capito come è fatto a diventare così grande. Normalmente se sono così grandi un motivo ce l'ha. Quando scende, evidentemente quando scende l'inverno fa danni. Farà dei grossi danni. Anche perché tu vedi nelle curve dello Stilaro che praticamente... Sì, ma guarda te lo puoi seguire tutto il... Sì, ma poi se vedi le curve cioè tipo ci sono i muri di contenimento, no? E li ha... li ha scavati, cioè li ha buttati giù. Ah, li ha buttati giù? Quello ti fa capire che qualcosina di cattivo lo fa. Oh, arrampichiamo un po'. Posso? Posso. Nell'arrampicata funziona così. L'arrampicatore più esperto quindi in questo caso Francesco va per primo perché lui salendo piazza i rinvii. Questi rinvii servono poi per tenere la corda che attraverso il contropeso della persona rimasta giù serve per tenere l'arrampicatore nel caso di un'eventuale caduta. Quando si sale però come cosiddetto primo non è una garanzia assoluta perché per qualsiasi distanza che si supera il punto del rinvio stesso la caduta sarà libera fino al rinvio ed anche il pezzo sotto finché la corda non arriva di nuovo in tensione. Come se questo già non bastasse i momenti più critici sono proprio quelli quando l'arrampicatore attacca i rinvii e ci infila la corda perché ha una mano impegnata che altrimenti userebbe per tenersi alla roccia. Voi là? Il sorriso? È duro? Fa paura? Una scivolata al momento dell'attacco significherebbe quindi la massima estensione della corda libera e quindi anche della caduta libera. Già questo basta per spiegare perché si tratta di uno sport adrenalinico. Una volta che il primo arrivato fino su e ha infilato la corda nella catena per poi riscendere il secondo ha la possibilità di salire con la corda già attaccata. La sicurezza aumenta tantissimo perché ora non c'è più il rischio della caduta libera che però comunque non significa che la scalata è più facile. La fatica è la stessa solo la sicurezza è più alta. Ale! Mentre Francesco scende sono combattuto a decidere se voglio provarla anche io o no. Ma alla fine decido che almeno un tentativo lo devo fare. Questa via è di un grado per me è fattibile ma la stanchezza accumulata del provare vie che sono al limite del mio grado beh anche quella si fa sentire. Vai! Ale il bez vai tranquillo che è molto semplice. Eccolo! Vabbè anche resistenza fisica io sono parecchio spappolato sono poco prima del cazzo che faccio qua dovevo andare a pranzo della fine della fine cerebrale no guarda va bene così è stato comunque veramente molto proficuo perché io grazie a lui oggi ho imparato due tecniche nuove che veramente hanno cambiato completamente la mia scalata benissimo allora per oggi magari ci ritiriamo da qua che dici che rega è il cazzo Dove andiamo? A Bill A Bill a Bill a Bill a Bill c'è neanche l'articolo Bill che dobbiamo andarci subito perché è stato strazzato ma che capelli strazzati mi hanno anche sbappolato la fronte ma l'hai presa bene prima cioè non sembrava da sotto non pensavo l'avessi picchiata così tanto a dire il vero è abbastanza no no sembrava che sì l'hai appena appena toccata ma scatta sto ho toccato forse con la GoPro un po' sì no l'hai toccata ma fa niente non l'hai fa niente eeeh castello? un giro prima di andare via no? dai invece di andare a Birra dopo una lunga giornata di scalata decidiamo di proseguire verso l'alto verso il castello non abbiamo nessuna idea di quello che ci aspetta macchina parcheggiata e andiamo a vedere madonna ragazzi per te questo siamo su un promontorio incredibile e ci siamo appena chiesti no ma se qua sopra c'è un castello come ci arrivava a questo castello e qua c'è ah oddio c'è una tipo un asseggiovia qualcosa che c'è una che porta su c'è un insegna lì vediamo castello farra santa gracia forra santa croce la salita è ripida ma le viste si fanno sempre più belle ed è uscito anche un po' di sole che a quest'ora della sera non è neanche male per contrastare un po' quel freddolino il castello di stilo è molto più grande di quanto immaginassi perché è veramente lì sopra sono diverse torri che poi la grandezza o l'importanza di un castello molto spesso si giudicava dal numero di torri che aveva sulle sue mura anche questo l'ho imparato recentemente grazie a un libro che mi ha regalato Giulietta Ieme qui è incredibile è veramente a dire poco incredibile Francesco giustamente in questo momento ha detto che non sarà un posto molto frequentato perché è veramente faticoso da raggiungere e lo è lo è davvero lui sta già andando su eccolo lì mentre Francesco sale sulla colina di là voglio vedere il castello e a mia grande sorpresa l'ho trovato aperto ci sono i resti degli affeschi ancora visibili veramente incredibile e io continuo a ripetere incredibile perché è incredibile ok noi siamo venuti oggi per arrampicare adesso abbiamo fatto un piccolo giro di esplorazione perché già che eravamo su potevamo farci scappare un castello perché Francesco il mio comunque appassionato di storia è come facciamo a dire di no a vedere un castello e qui vedete anche un'architettura complessa molto forte molto rigida e presumo perché io presumo non lo so dovrei andare a vedere questo e adesso non voglio di farlo anche se ho internet in tasca presumo che anche questo sia caduto vittima del famoso terremoto del 1783 che purtroppo ha fatto veramente strage un po' con tutto quello che sentite è il mio telefono perché ieri ho pubblicato un nuovo video di storia della Calabria ciao ciao qua c'è veramente una visuale a 360 gradi guardate che roba cioè ovvio che qui c'era anche una torre perché se io qua ci metto pure una torre vedo veramente tutto la valle dello Stilaro le montagne vabbè io ovviamente ho una straccia poi lì andiamo anche io non mi ricordo adesso i paesi sono stanco l'ho scalato il tuo giorno sotto di me vediamo Bibongi eccola lì Bibongi lì c'è il monastero dove sono stato beh tre mesi fa un po' di tempo fa lì c'è l'altro santuario sempre greco grecanico e c'è una visuale totale c'è postazione difensiva veramente perfetta 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 immagina il medievo cosa c'era qua è incredibile con gente che ci viveva il tempo vola mentre noi guardiamo il castello e fantastichiamo sui tempi antichi come sarà mai stata questa fortezza che forma avrà avuto che funzione avrà svolto chi saranno stati i suoi abitanti ma soprattutto come avranno provveduto per avere cibo e acqua qua in questo posto così impervido è veramente difficile da raggiungere se si pensa ai tempi antichi oggi le strade facilitano tutto ma adesso è ora di scendere abbiamo tardato una cosa importantissima che si chiama la birra si chiama birra senza articolo birra e vi dico che io ho comunque ho interrotto perché a un certo punto ho fatto prevalere la testa però sono veramente distrutto ho le mani distrutte ho la schiena distrutta e le gambe non parliamone e non vedo ora di birra infatti non vediamo l'ora di arrivare in paese e forse anche i cani ormai si sono stancati andiamo verso stilo dove ci aspetta birra questa giornata è stata veramente lunghissima e così anche questo vlog atipico è più lungo del solito mentre beviamo birra ci rendiamo conto che della zona di arampicata del monte consolino ne abbiamo visto veramente una piccolissima piccolissima parte torneremo presto a stilo e il vlog per oggi si conclude qui sono contento che hai guardato fino qui e ci vediamo alla prossima avventura